Sempre io devo fare questo turno, porca miseria, mi sono stufato, mi diceva qua, qua devo stare, porca, io non lo so, sempre io devo fare questa strada, io guido il bullman, lo chiamo Cosimo lo quace, sono decattato. Chi è di scena? Chi è di scena? Sono, 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 non mi ricordo più come mi chiamo, sto guardando questa strada qua, adesso sto facendo che devo fare un turno, che faccio il Bologna-Zurico diretto, senza mai fermarmi da nessuna parte, Bologna-Zurico senza mai, io parto e vado, adesso sono nel garage, sto cercando di partire perché io, questo, io guido sto bullman, io ecco, Aspetta che, Assunto! L'hanno appena preso questo, Assunto! Ciao, 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 ciao! Assunto, devo uscire con bullman! Sirmala ambrate, 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 sirmala ambrate. Se vuoi ti do una svella e ti fermo una crescita se vuoi, se vuoi, se vuoi. Sirmala ambrate, sirmala ambrate, sirmala ambrate, sirmala ambrate. Sirmala ambrate. Sono nel garage, le porte sono chiuse, come minca hai fatto salire. Ho fatto come il film ghost che sono entrato come il fantasma formaggino che è mio. Ah, interessante. Sirmala ambrate. E' diretto! Faccio Bologna-Zurico senza mai fermare. E allora, allora, secondo te le pulci si grattano? Secondo te l'uccellino che c'è nel cucù fa la cacca? Ma tu sei la ribota di Pierro Angela, per caso? Se tanto mi dà tanto, e te cos'è che ti rimani? Io mi chiamo Anna Liva. Che nome di merda, bravo, complimenti! Ho 17 anni, meno 10, meno 4, per 2, più 1, diviso 2, meno 4, più 2. Perdo una calcolatrice e poi vediamo quanti anni ha. Ferma l'ambrate! Non ferma l'ambrate, è diretto! Se vuoi vado sparato, poi a un certo punto faccio una curva, apro le porte, tu rotoli all'ambrate. Allora, secondo te è passato un millennio, da che parte è andato? Ma sei la ribota di Marzullo, per caso? Guarda che chi trova non sempre ha cercato, eh. Io, mia mamma, ha comprato una cucina in ciliegio e ha trovato i noccioli nei cassetti. Scappo la cacca. Beh, oh, non scaganciare su pulpa, per favore, eh. Falla fuori, per favore. Fatta, un pezzo solo. Sì, ma... Sette chili, infatti, per la quantità. Quella che è la cacca dei bambini è innocente. Sì, ma puzza anche quella, ragazze. E' una farina tunnel. Perché guidi con la caramella Polo? Eh, questo è un volante. Bambina, roito, chiave, caccesso, latrina. Questo è un volante. Come fai a sapere quando i pesci piangono? Ma c'è anche un questionario da compilare, oppure è solo questo? No, per caso non lo so io. E allora come fai a sapere, non me lo rispondo. Perché quando conti i numeri non... Firmala l'ombrate! Firmala l'ombrate! Senti, bambina, qui si... Firmala l'ombrate! Senti! Firmala l'ombrate! Firmala l'ombrate! E' un puzzle, mettiamo i pezzi insieme e mi fa una bella cacata. Bravo, complimenti! Ma ci dicono che perché c'hai i capelli solo col cappello? Prova a togliere il cappello. Perché c'hai i capelli solo col cappello? Senti, ma tu non vai a scuola? Sì, io vado a scuola. E che cosa fai? Faccio la... Cosa ti interessa? Guarda che io sono intelligente. Non l'ho messo in dubbio mai questa cosa. Io mi chiamo Annalisa, mia mamma mi chiama Piantala. Interessante! Posso venire a fare i compiti a casa tua che ho rotto la Playstation? Sono fuori dal tunnel. Firmala l'ombrate! Firmala! Io sono a San Carlo, la patatina. Interessante! Interessante. Senti, ma i tuoi, non potevano mettere un preservativo per gli dallo scempio qua? Ma la nostra bisogna che veloce, sì, 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 ma mamma, Suri, 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 la la, sì, 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 ma, 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 sì, 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 Sono fuori dal tunnel. Ascolta, bambina, facciamo un gioco. Ma mamma stira col ferro, si chiamatizziamo. Senti, bambina, facciamo un gioco. Tu scendi dal pullman, ti metti davanti. Io erroneamente lascio la prima. Quando poi sono passato, io guardo nello specchietto. Se ti rialzi, erroneamente metti la retromarcia e ti investo. Chi lo sa, fa lo stesso, porta pazienza. Lascia il tempo che trovi, se lo trovi, scappa la cacca. Ragazzi... Calambrate. Non... Ti ho scritto una poesia. Ah, bene, sono contento, bravo. E lo guardo nel mio libretto. Bene, 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 sono contento. Nio libretto, tot, tot, tot. Mie sorelle, mi fa... Bambina, ti investo anche te dopo. No, mia sorella è piccola. Ma è piccola, perché dopo quando Pasquale non si sente neanche quando Pasquale. No. Si chiama Maruska. Maruska? Maruska. Con la scafinale. Oggi al volo prendo un tram, ma non vado ad Amsterdam. Al tram viene, in divisa, dico... Ciao, sono Anna Lida. Chi era Pasquale? Devo andare a Lambrate. Quante sono le fermate? Scusi, autista, lei è distratto. Per Lambrate è questo il tratto. Chiede annunzio. Ma... Se Lambrate fermerà, risponde con sincerità. Ho suonato il campanello, mi fa male il polpastrello. Ma... Ma... All'ambrate scenderò. Ma perché lei ne portò? Devi finirla! Devi finirla! Perché devo finirla? Vaffanculo, tram viene pirla!